A tre mesi dall'inaugurazione, la 54esima biennale di Venezia può vantare un successo di pubblico superiore agli anni scorsi, secondo quanto dichiara il presidente Paolo Baratta. Siamo a un livello che supera il 18% l'ultima biennale, abbiamo molti giovani, abbiamo molti giovani provenienti anche dall'estero. Fra le opere più apprezzate le statue di cera di Urs Fischer che si stanno sciogliendo man mano nel corso dell'esposizione e soprattutto la riflessione cinematografica sul tempo di Christian Markley. Un'opera più visitata è quella intitolata The Clock, pezzettini tratti dalla cinematografia di tutti i tempi per ricomporre un'opera che dura 24 ore ed è un grande omaggio al linguaggio cinematografico. Mi sembra una straordinaria idea e congiuntura che nel momento in cui abbiamo la mostra d'arte che dà leone d'oro a uno che usa il linguaggio cinematografico, abbiamo nella mostra cinematografica 27 video artisti.